Igor Tudor ha parlato così in conferenza stampa dopo Lazio Juve, tanta amarezza, siamo chiaramente dispiaciuti, ma facciamo i complimenti alla Juve, d'altra parte penso che abbiamo fatto una grandissima gara, i ragazzi hanno dato tutto, eravamo vicini, abbiamo fatto una grande partita ma purtroppo non è bastato, la squadra è mentalizzata dal primo giorno, è un bel gruppo, con voglia di fare, non posso dire che non è il comportamento giusto, ci alleniamo tutti allo stesso modo, 5 cambi sono importanti per cambiare la gara, dall'altra parte c'era una squadra che ha fisicità a livello mondiale, noi ci abbiamo provato anche con i cambi, noi veniamo da un periodo con tante partite, ci sono ragazzi che hanno speso tanto e questa cosa l'abbiamo pagata, la strada però è questa, la mentalità è giusta, il comportamento è giusto, non è bastato ma guardiamo con ottimismo al futuro e ci prepariamo al meglio per sabato, può influire positivamente l'amarezza, i ragazzi erano dispiaciuti, ma molto orgogliosi e consapevoli di aver battuto due volte la Juve su tre gare, ed è tanta roba, ci sono cose più positive che negative anche se siamo usciti.